Di nuovo buonasera al gruppo degli artisti ilpini, sono Giulia Paglipalda, quello che vedete sono le luci di Maurizio Liannino, che come sappiamo è uno dei devus a queste macchine del laboratorio teatrale Lapiano e del teatro Gesualdo di Avellino, quindi possiamo ammirare quelle che sono queste coreografie di luci, quasi da far sembrare la chiesa di San Maria delle Grazie tutta un'altra chiesa, quindi veramente stani complimenti a Maurizio Liannino, che ricordiamo originario appunto di Lapio, il fratello Fiorenzo, il presidente della Proloco, San Manghese, che non smetterà mai di dispensare cultura e vediamo ancora questo rosone in buona evidenza a testimoniare questo gioco di luci che potrebbe essere utilizzato, perché no, anche per altre manifestazioni culturali in provincia di Avellino. Grazie.